Dai, devi inquadrare. Guarda, devi inquadrare i treni. Guarda, devi inquadrare i treni. Guarda, devi inquadrare i treni. guarda che rispondo oh no non immaginavo vero che ci fossi mannaggia mamma guarda aspetta che devo mi guarda io faccio fai venire quello quello di qua fai venire quello di là mado spinire